pavingross tutto il mondo dell'arredo bagno la ricercatezza del design la qualità dei prodotti ai prezzi migliori dai un tocco di eleganza e goditi il comfort pavimenti rivestimenti serie sanitari batterie lavabo batterie bidet monocomando doccia cassetta zaino saliscendi cinque getti piatto doccia e valvola a soli 499 euro pavingross via sorda san pieri modica